L'attesa è finita! Ragazzi, dopo il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, il sorteggio dei play-off di Europa League manca pochissimo. Mancano pochissimi minuti al sorteggio dei play-off di Europa Conference League con Fiorentina e Lazio, grandi protagoniste. La Fiorentina, la viola di Vincenzo Italiano inserita in prima fascia, i bianco-celesti, la formazione di Maurizio Sarri dopo il terzo posto Beffardo in Europa League alle spalle di Feyenoord e Middelland in seconda fascia. Nel mio sorteggio la Fiorentina affronterà lo Sporting Braga, invece la Lazio affronterà l'Andeklet. Un mio pronostico prima di fare un piccolo riepilogo, prima dell'inizio del sorteggio. Allora, secondo me la Fiorentina affronterà una vecchia conoscenza dei giallorossi, il Bodo Glimt, mentre la Lazio affronterà il Basilea. Questo è il mio pronostico a pochi minuti dall'inizio del sorteggio, qui a Nyon. Riepilogo. Ragazzi, manca davvero poco, quindi vedremo come andrà un piccolo commento anche al sorteggio di Champions League e Europa League. È andata benissimo all'Italiane con il Napoli, che affronterà i tedeschi dell'Eintracht Francoforte. Bene anche all'Inter, che affronterà il Porto in un confronto emozionante, in un confronto che potrebbe aprire le porte ai nerazzurri dei quarti di finale. Un sorteggio un po' più complicato invece per il diavolo, per i rossoneri, per il Milan di Stefano Pioli, che incrocerà un altro tecnico italiano, il nostro Antonio Conte, con il suo Tottenham agli ottavi di finale. Juventus-Nante invece lo spareggio, il play-off di Europa League e Roma-Salisburgo, un altro confronto che non dovrà assolutamente comunque sottovalutare la formazione giallorossa. Questo è quello che ha diramato per ora il sorteggio di Lyon. Ci vediamo tra qualche minuto per l'inizio del sorteggio dei play-off di Europa Conference League, con Fiorentina e Lazio, grandi protagoniste. Allora ragazzi, prima squadra estratta del sorteggio di Europa Conference League, il Carabag. Carabag. Vediamo se la Fiorentina dovrà affrontare a Baku, in Azerbaijan, il Carabag. Carabag contro Ghent. Quindi, primo accoppiamento, Carabag contro Ghent. Il road to Praga, dopo il road to Tirana per la Roma, nella storica prima edizione di questa terza competizione UEFA. Trabsbondsport. 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 Un'altra trasferta turca per la Fiorentina dopo quella contro il Bajashqeir. Vediamo. Trabsbondsport. Trabsbondsport. Contro Basilea. Trabsbondsport contro Basilea. Quindi cade per ora il pronostico che avevo effettuato tra Lazio e Basilea. Rimangono in piedi i possibili confronti tra Fiorentina e Sporting Braga e Lazio Anderclet. La Lazio, ragazzi. Vediamo. Anderclet, Lekponaz, Partisan, Dnipro, CFR, Cluj. Quindi cinque possibilità per i biancocenesti che non possono affrontare la Fiorentina. Visto che non sono ancora consentiti i derby in questi spareggi di Europa Conference League. Vediamo. Attenzione. CFR Cluj. Che quindi torna dopo tantissimi anni all'Olimpico. Questa volta non affronterà la Roma. Era la Champions League. Ma affronterà i biancocenesti in Europa Conference League. Come cambiano gli anni, eh? Bodo Glimt. Vecchia conoscenza giallorossa. Lo scorso anno, ricordiamo, quel 6-1 nella fase a Gironi. E poi la vittoria giallorossa dopo la sconfitta all'andata. Il ritorno all'Olimpico. Quel 4-0 che proiettò la Roma verso la semifinale. Poi vinta contro il Leicester. Bodo Glimt contro l'Ecponaz. Quindi siamo a metà del sorteggio. Lazio CFR Cluj. Quindi trasferta in terra rumena per la formazione di Maurizio Sarri. Ancora da decretare invece l'avversaria della Viola. Sporting Braga. Può affrontare la Fiorentina, l'Andetlet, il Partizan e il Dnipro. Quindi 4 possibilità per la formazione lusitana. Tra le quali anche la Fiorentina. Che avevo pescato nel mio sorteggio. Squadra da evitare per la Viola, secondo il mio punto di vista. Sporting Braga contro Fiorentina, ragazzi. Pazzesco. Un altro accoppiamento indovinato. Sporting Braga contro Fiorentina. Secondo me era l'avversaria principale da evitare per la Viola. Al K Larnaca. Siamo al sesto accoppiamento. Può affrontare l'Andetlet, il Partizan e il Dnipro. Squadra Cipriota. Andetlet. Scusate. A E K Larnaca contro... Contro Dnipro. Quindi A E K Larnaca contro Dnipro. Mancano due accoppiamenti a questo punto. Sheriff Tiraspool. Può affrontare l'Andetlet. Partizan. Quindi Sheriff Tiraspool contro Partizan. Belgrado. L'ultimo accoppiamento a questo punto. Vede l'Andetlet affrontare Ludo Goretz. Ludo Goretz contro Andetlet. Quindi aspettiamo il riepilogo. Di questo sorteggio. Lazio. CFR Cruze è andata bene. Fiorentina contro Sporting Braga. Era l'avversario da evitare a tutti i costi. Riepilogo dei play-off di Europa Conference League. Carabagh-Gent. Transonsport. Basilea. Lazio. Cefercluge. Bodo Glimt. Lekponaz. Braga. Fiorentina. A E K Larnaca contro Dnipro. Sheriff Tiraspool contro Partizan. Ed infine Ludo Goretz contro Andetlet. Ragazzi ditemi nei commenti cosa ne pensate dello sorteggio di Lazio e Fiorentina. E io ovviamente vi ringrazio per l'attenzione. Lasciate tantissimi like al video. Iscrivetevi come sempre al canale. E seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao. Ciao. Ciao.